parte l'incontro tante ragazzi a saltare arriva la cross non altissimo la palla comunque passa arriva alla conclusione in qualche modo in latina libera non è perfettamente qui la tivoli di Guglielmo quasi la può riconquistare infatti vince ora in palla numero 8 se la porta sull'emmancino adesso prova anche a calciare dalla bandierina ancora una volta della latina velocizza servendo subito Baldasteroni che controlla la palla la solita finta della numero 16 va a puntare Livi se la porta sull'emmancino cross in mezzo che è quasi un tiro la palla che tocca anche il palo dopo la parata qui di Trezza riesce anche ad uscire come in questo caso di Guglielmo che va a trovare Bullari sa che corre il numero 10 questa volta però un pochino troppo defilata la mette però bene giù poi va alla battuta con il destro smorsato questa conclusione la parata facile di Trezza angolo come detto dalla pallone Livi solo in tre a saltare in aria arriva adesso la quarta il pallone però è buono per Tamburrino che non riesce a trovare il pallone ora a mettere bene il fisico prende il pallone poteva anche forse provare la conclusione preferisce attendere dare questo pallone magico per Isopi che riesce a saltare il portiere e poi di Francesco sotto porta trova il gol che sblocca la partita ma la giocata è tutta di di Guglielmo l'imbucata questa volta è recordare la posizione di Livi attenzione perché può andare sola verso la porta Livi carica il destro di piatto facile facile alla fine non prende nemmeno lo specchio punizione importante per i lettivoli di Pasquale sulla pallone da lì prova addirittura verso la porta facile proprio del portiere Federica Scarpellino la stessa che va la lancio lungo scavalcando il centrocampo prova solo a toccarla riesce in qualche modo di Pasquale la palla è buona però per Eberardi Bullani prova a mettersi velocissima ancora come sempre per tocco del portiere incredibilmente tira fuori ancora l'imbucata a cercare di Guglielmo si piccia un po' la difensore di Guglielmo ne approfitta ma incredibilmente non trova il gol fischia l'arbitro parte Baldasseroni palla che gira non è troppo infatti è centrale per il portiere arriva il duplice fischio del direttore di gara che manda le due formazioni a riposo sta vincendo lo Sporting Latina 1-0 con la rarite di Francesco molto lento con il punto del primo tanto Pedrini la butta molto lungo in mezzo scavalcata Baldasseroni che si toglie il pallone insieme a Bullani e buona forza per Eberardi si ostacano proprio tra di loro i sovi non hanno visto l'arrivo della compagna l'ho giocata però la tenta comunque qui di Guglielmo il tocco è per Bulleri ancora di Francesco di nuovo da Bulleri il tiro al giro di Bulleri va là vicinissimo alla traversa davanti a lei il tocco per Di Pasquale non passa questo pallone di Francesco non può controllare lo fa invece il numero due sbagliando però perché si intromette sul pallone Eberardi molto agile il numero 13 anche in questo caso ma il tiro è troppo centrale parte di Pasquale la palla bassa vicino al palo anche in questo caso parte finalmente la traversione intanti a saltare Bulleri sulla sfera non riesce a trovare nemmeno adesso lo specchio della porta il rimbalzo per poco non favorisce il Tivoli che di testa voleva servire la compagna si scontano un due si allacciano l'abbio lascia giocare potrebbe essere buona per Livi l'occasione forse nella finale di cara Livi va a calciare il miracolo di Scarpellino cosa ha parato più tempo arriva la tipice fischio vince la Latina solo 1-0 ma l'importante è portare a casa questi tre punti Tivoli che a tratti ha tenuto testa l'avversario però non è riuscito a trovare questo gol del pari grandissima la parata nella finale di Scarpellino allunga comunque il classifico allo sport di Latina ragazzi che vengono a festeggiare la vittoria sotto i propri tifosi che vengono